ok ragazzi ci siamo questo è il giro della morte siamo al Khatoum, Khatoum è egiziano si vedi come tremo vedi un po' non urlare Andre non sboccare mi raccomando sto facendo il filmino non vorrei uscire su tg5 e altre cazzate varie c'è una ragazza là che ha paura di brutto guarda guarda grande gira lui si che è tutta carica partiamo un po' all'alto moto si ragazzi oggi perderò sicuramente il telefono sono troppo ossessionato a fare i filmini oh ragazzi uno due tre oh la paura è lava no 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 Che merda! Perché hai bloccato? Mi hai una mano! Muori, devi morire!